350 anni fa, nel 1666, il vescovo Alessandro Sperelli donava alla città di Gubbio la sua personale libraria, con l'intera preziosissima collezione di libri, messa in piedi con grande fatica ed edizione in decenni di ricerche e di studio. Da quel fatidico 1666, i bibliotecari della Sperelliana di Gubbio si sono trasmessi tale ricchissimo patrimonio, ponendo cura giorno per giorno non solo alla sua conservazione, ma all'acquisizione di nuovi lasciti e all'integrazione della collezione con acquisti mirati e attentamente valutati. Oggi il patrimonio librario del Fondo Antico è cresciuto da 7.000 a 30.000 pubblicazioni e sabato la biblioteca Sperelliana ha festeggiato se stessa con una giornata ricca di appuntamenti, come l'apertura straordinaria del Fondo Antico. Nacque dal lascito del vescovo Sperelli 350 anni fa e fu alimentata da una serie di altri lasciti, per cui oggi festeggiamo sia la sua data di nascita, il primo lascito e festeggiamo i lasciti del passato e quelli più vicini e anche quelli che stanno avvenendo in questi giorni. Il Fondo Antico è stato visitabile per tutta la giornata, ma anche altre le cerimonie pensate per i festeggiamenti, come quella della consegna dei premi agli studenti delle superiori di Gubbio che hanno partecipato al torneo di lettura. E ancora, donata una scultura di Nello Bocci e libri per bambini da parte di Susanna Cesaroni, affidata alla professoressa Patrizia Castelli poi la relazione sulla figura del vescovo Sperelli, sapienza, giustizia, virtù, carità. Non potevano mancare infine tante iniziative per i piccoli agubini, letture per i bimbi grazie alle volontarie del progetto Nate per Leggere, laboratori di arabo, spagnolo e francese, animazioni, laboratori di musica. Una bella giornata per festeggiare i 350 anni di una delle istituzioni più significative della città. Festeggiamenti rimandati lo scorso giorno.